Dal 1 luglio 2014, quando fu chiuso il punto nascita all'ospedale di Villa d'Agri, il nosocomio ha subito un importante depotenziamento. L'ultima tappa di questo percorso si è consumata con la chiusura, marzo per una contaminazione da coronavirus. Da quel momento l'ospedale ha operato a regime ridotto. Da questo parte la necessità, da parte dei cittadini della valle, insieme ad associazioni, stakeholders, professionisti ed istituzioni locali, di creare un incontro con l'assessore alla sanità Rocco Leone per creare un tavolo permanente per la sanità in Val d'Agri, con l'obiettivo di promuovere la partecipazione del territorio alle decisioni politico-istituzionali in merito alla sanità della valle. Dall'assessore ci aspettiamo degli impegni precisi per quanto riguarda il futuro dell'ospedale di Villa d'Agri, che sta vivendo ormai da alcuni anni una situazione al limite del sopportabile. Abbiamo vissuto due momenti cruciali, che sono stati la chiusura del punto nascita nel 2014 e l'accorpamento dell'ospedale di Villa d'Agri all'azienda sanitaria regionale. Momenti cruciali perché chiudendo un punto nascita è facile capire che in un ospedale dove ci si cura, purtroppo si muore ma non si nasce, tutto diventa molto più complicato. Con la chiusura del punto nascita le gestanti sono state lasciate al loro destino. Non a caso in questi sei anni sono nati sei bambini per strada o in ambulanza o addirittura in macchina o per strada. Un ospedale che si trova a poche centinaia di metri da un centro strategico come il COVA non può essere depotenziato assolutamente. Il COVA è soggetto a un piano di emergenza esterno che prevede l'intervento dell'ospedale in piena efficienza. Non è possibile che un ospedale sia depotenziato con una situazione così vicina a noi, così importante. L'assessore alla sanità è intervenuto all'incontro manifestando le sue intenzioni. Sarà sicuramente un ospedale importante perché noi, contrariamente a quello che si va dicendo, vogliamo potenziare i nosocomi esistenti, quelli sedi di pronto soccorso. L'ospedale di Villa d'Acri sicuramente avrà un ruolo importante, soprattutto perché sta in una zona di alto rischio di incidenti, quindi un potenziamento importante del pronto soccorso. C'è una chirurgia bariatrica, quindi abbiamo pensato a fare anche un centro studi clinici dell'obesità. potenzieremo sicuramente la medicina del territorio perché la gestione della cronicità è un fatto importante, vorremmo potenziare la gestione del territorio. E non ultimo abbiamo pensato di riproporre la questione del punto nascite perché non si può nascere per strada. Anche se il bacino d'utenza è circa 50-60 mila abitanti, il bacino di questo nosocomio, noi forse abbiamo trovato una sponda importante perché abbiamo fatto più di qualche incontro col capo medico dell'Eni e lui si è mostrato disponibile a darmi una mano presso il ministero per la questione del punto nascite. Il piano sanitario regionale si attende da molto e purtroppo non è dato di sapere i tempi di realizzazione. I tempi stiamo lavorando, stiamo lavorando, stiamo lavorando in maniera importante. Riorganizzare non significa mettere le toppe. Mettere le toppe si fa facile, ma non si risolvono i problemi. Noi stiamo lavorando per ridare a questo sistema sanitario perché o riorganizziamo o andiamo in defo.